E' notevole questa. Vieni a vedere la piscina in me! Come non correre così? Possiamo comprare questa casa, per favore? E' troppo bella, la prendiamo? Non lo so, tu che ne dici, tesoro? Compriamola. Voglio essere il massimo! E adesso chi ci va a prenderla? Sei felice qui? Tutte queste carte cosa sono? Sono cose della famiglia che abitava prima qui. Mi interessa la storia della tenuta di Colcremio. Vi siete mai chiesti cosa sia successo in casa vostra prima che ci abitaste voi? La tenuta di Colcremio. Una bella martellata e sono morti tutti. Chi è morto? Speravo che lei potesse parlarmi della tenuta di Colcremio. Dovreste stare attenti. Sapete in cosa vi state cacciando? Sapete qualcosa delle persone che hanno vissuto in quella casa prima di noi? Volete un consiglio? Non fate troppe domande. Oh mio Dio! Mamma, vieni qui! Che c'è? Una casa è come un buscio, giusto? Ci abiti per un po', poi le cose cambiano. La verità... Mi devi credere. La tenuta di Colcremio è la chiave di tutto. Sarà svelata. Dennis Quaid, Sharon Stone. Io so che cos'è. Oscure presenze a Colcremio. Su DVD e in videocassetta.